e per i tanti appassionati di queste discipline sportive siamo riusciti qualche ora fa complice anche il fuso orario e la necessità di davide di allenarsi perché come sapete giovedì inizieranno i mondiali abbiamo realizzato un collegamento da calgari che vi mostro con piacere ciao a tutti buonasera e grazie per l'invito no grazie a te per la disponibilità abbiamo registrato questo collegamento perché c'è un fuso orario importante con calgari e tu sei impegnato nella seconda tappa a livello planetario dopo quella della coppa del mondo allora anzitutto le tue sensazioni nell'essere il primo italiano a portare a casa a livello mondiale questa coppa di specialità sono felicissimo di aver raggiunto questo traguardo ci hanno dato molto vicino l'anno scorso ma per problemi legati alla giuria e quindi ero incappato in una squalifica non avevo potuto appunto ricevere la coppa perché alla fine è arrivato quarto quest'anno le gare sono andate molto bene quindi alla fine si è conclusa al meglio la stagione delle coppe del mondo con questa vittoria direi che la coppa del mondo per quanto riguarda la tua specialità è un po come tutti i tornei cioè bisogna avere una grande regolarità no più che arrivare a dei picchi di vittorio improvvisi e poi magari cadere con delle sconfitte è stata questa il tuo segreto per conquistare il titolo si esatto la coppa del mondo viene stipulata alla fine di una classifica i punti che si possono acquisire vengono appunto fatti durante le varie tappe di coppa del mondo noi ne abbiamo sei e ovviamente essendo dislocate in vari paesi in varie zone del mondo e in durante tutta la stagione è un po difficile la difficoltà appunto di riuscire a competere ai vertici alti di questa classifica e proprio di riuscire ad essere in forma a tutte le coppe del mondo poiché diciamo all'interno della nostra stagione abbiamo anche altre gare quindi come campionati europei mondiali campionati nazionali e a volte la difficoltà è quella di trovare la capacità di performare sia nella coppa del mondo sia in altre competizioni ecco a proposito di altre competizioni non sei rientrato in italia perché in questo momento sei a calgari per il campionato del mondo lì devi difendere un oro nei 10.000 e un argento nei 5.000 come stai dai dai sono molto soddisfatto degli allenamenti fatti fino ad ora insieme ai miei compagni di squadra siamo riusciti a raggiungere la località di calgari una settimana prima proprio per ultimare la preparazione invece che ritornare ovviamente in italia avere problemi con infusorario e quindi da giovedì iniziano questi campionati mondiali penso che io e la mia squadra siamo riusciti a fare tutto quello che era il nostro potere appunto per allenarci poi speriamo sempre che gli avversari possano essere un po meno forti del previsto però insomma noi siamo preparati quindi sicuramente daremo spettacolo davide hai testato visto che siete lì da qualche giorno la pista perché è una componente importante anche quella noi i fondi non sono esattamente tutti uguali come come ti sei trovato allora diciamo che la pista di calgari naturalmente è forse la seconda pista più veloce al mondo fino a qualche anno fa deteneva anche dei record mondiali poi questo è stato passato a lo scettro a salt lake che è appunto un po più veloce in america e però comunque rimane una gran bella pista per noi appunto una bella pista vuol dire che il ghiaccio è molto scorrevole quindi si hanno grandi ambizioni anche di tempistiche sulle gare che magari in europa o in altre piste non si possono ottenere proprio per la componente del ghiaccio quindi oltre al diciamo al prestigio della gara in sede del campionato appunto mondiale c'è anche la la speranza e la voglia di di far segnare dei tempi che non tutti i giorni capita di avere l'occasione di fare proprio perché appunto le piste americane e in questo caso quella canadese notoriamente sono le più veloci il ghiaccio appunto non è neanche ancora secondo me dei migliori visto che comunque era una quarta settimana prima del mondiale quindi man mano che ci avviciniamo alle gare sicuramente gli addetti ai lavori riusciranno ad ottimizzare anche il ghiaccio bene davide non ti dico altro ti faccio un grande in bocca al lupo a nome dei tantissimi tifosi che hai perché devo dire che quando abbiamo pubblicato il post sulla tua vittoria abbiamo avuto una risposta straordinaria in bocca al lupo dicevo per il tuo mondiale a te e naturalmente alla nazionale italiana ti aspettiamo in ogni caso in una prossima puntata di aerosport perché come minimo ci devi portare la coppa del mondo in bocca al lupo ciao davide buona serata vive il lupo vive il lupo vi ringrazio e sicuramente ci rivedremo presto ciao a tutti grazie